DOLORE CRONICO La schiena che non mi dà pace, dovrei andare da un medico. A chi lo dici? Io stanotte non ho chiuso occhio per la cervicale, un mal di testa. Ma la schiena è peggio perché mi tira la gamba e cammino male. Tu cammini male, io ho le vertigini. Con la campagna di oggi Sandoz ha voluto costruire cultura intorno alla gestione del dolore cronico attraverso l'uso dell'ironia e del sorriso. Noi pensiamo che lo spazio terapeutico sia molto ampio e che oggi ancora la consapevolezza della patologia si abbassa per cui vogliamo essere vicini alla cittadinanza nel supportarla attraverso un'arma come quella dell'ironia nel chiedere un supporto ai medici, agli specialisti, ai medici di medicina generale che possono trattare questa patologia nel modo più efficace. Sandoz è impegnata globalmente in Italia da 10 anni a fianco dei medici e degli specialisti dei medici di medicina generale nell'offrire ai pazienti le migliori soluzioni terapeutiche nell'ambito della trattazione del dolore cronico. La giornata di oggi è fondamentale perché in effetti uno dei punti che noi abbiamo individuato tutti quanti insieme nel manifesto sul dolore per riportare al centro dell'attenzione il dolore e la cura del dolore è esattamente questa, l'informazione. L'informazione manca, abbiamo visto che il 70% delle persone non conoscono la rete di terapia del dolore né la legge 38 che gli sancisce il diritto alla cura quindi è fondamentale un momento di informazione ed è fondamentale non soltanto per i cittadini che sappiano praticamente rendersi conto che il dolore è curabile si può e si deve curare quindi praticamente è necessario rivolgersi nel più breve tempo possibile a un medico o comunque a uno specialista che poi in qualche modo possa indirizzare e iniziare questo percorso di cura. Con la nostra ricerca abbiamo scoperto che il 23% della popolazione italiana ha una diagnosi di dolore cronico abbiamo scoperto che c'è un importante gap nelle tempistiche di diagnosi e di accesso alla corretta terapia per il dolore cronico quindi abbiamo messo in luce l'importanza della awareness presso la popolazione qualcosa si può fare, bene intervenire subito bene rivolgersi subito agli specialisti che facciano poi un corretto referral Siamo Corrado Nuzzo e Maria Di Biase siamo lieti di essere i testimonial di questa campagna Siamo felici di essere sulla sensibilizzazione sul dolore cronico Ma perché? Perché è bello informare e far capire che bisogna rivolgersi allo specialista Mi raccomando non invecchiate con il vostro dolore andate subito a farvi vedere Superare il dolore si può Bisogna cercare di stare meglio nella propria vita Si può L'altro giorno mi è venuto in giramento stavo per cadere a terra Tu stavi per cadere, io sono caduta proprio, stavo più di là che di qua Tu stavi più di là che di qua, io dal dolore sono morto, morto Tu sei morto, e io, a me mi stavano per seppellire Quando ho aperto gli occhi, ho visto il dottore E sai che mi ha detto? Prima, dovevi venire prima Eh? Prima! Un italiano su cinque soffre di dolore cronico Superare il dolore si può con la giusta terapia Rivolgiti al medico o allo specialista Fai una scelta di salute Scacco matto! Eh? Superare il dolore!